13 e 13 parliamo della discussa finale di Supercoppie in Arabia Saudita. Contro il match tra Juve e Milan che si giocherà nel pomeriggio a Jeddah, in un paese che viola i diritti umani, oggi davanti all'ambasciata dell'Arabbia Saudita a Roma si è svolta una manifestazione di Amnes International, Federazione della Stampa, Unione Italiana Sport per tutti e altre associazioni. Sentiamo. I diritti violati hanno nome e cognome del blogger arrestato e frustato, delle donne imprigionate e segregate e il volto, esposto dai manifestanti nella copertina del Times, di Khashoggi, il giornalista assassinato. Per loro la stampa italiana oggi scende in piazza. Beppe Giulietti, presidente FNSI. Questo è un pallone insanguinato in un paese che ha imbavagliato ogni voce libera. Decine di giornalisti in galera, Khashoggi è stato massacrato in Turchia. I diritti civili non sono una merce contrattabile. Presente è anche il mondo del volontariato e dell'associazionismo sportivo. Ivano Maiorella, WISP. Sport sociale è per tutti e lo sport, tutto lo sport, sono i diritti. Non c'è un piano inclinato per cui lo sport va portato come se fosse un circo, in giro a legittimare regimi opachi, ambigui o dittatoriali. E la responsabilità di questa scelta, in calza Riccardo Nuri, Amnesty International, è tutta italiana. Questa è una partita italiana, si deve giocare a Roma. Se si gioca a Jedda è perché la Lega Calcio ha accettato 7 milioni di euro ed è una decisione di marketing, senza alcuna riflessione dal punto di vista etico. Dall'Ambasciata dell'Arabia Saudita, Roma, Arianna Voto, GR1.